Temo che se è accaduto questo comunque è un fatto un po' grave perché certamente se è vera la dichiarazione così come pare di Ita che aveva comunicato l'operativo e nell'operativo ci sono anche gli orari, beh insomma se hanno fatto finta di niente finché è successo il pasticcio non mi sembra un segnale di serietà, quindi la questione adesso è come risolvere perché va bene il pasticcio è successo, poi si vedrà chi, come, perché hanno dormito, però è chiaro che questa è l'ennesima dimostrazione delle incertezze che ci sono collegate a un bando che ha esso stesso delle problematiche che si trascina da anni. Però quando la compagnia si presenta il suo piano per la continuità territoriale c'è proprio un documento che deve compilare, cioè questi aspetti qui vengono trattati. Ti do una notizia a te e agli ascoltatori, sulla base di 40 punti tecnici che sono pochi perché sarebbe stato meglio averne 80 e 20 economici,